Giornata interlocutoria con attesa di ulteriori sviluppi. Non si può definire diversamente quella di ieri per il Teramo? Che attende ancora risposte riguardo al proprio futuro? La vera domanda è in questo momento. Per quanto ancora è legittimo e lecito attendere prima di avere un quadro delineato dell'avvenire in casa biancorossa? La sospensione con rinvio a data da definire, ma con ogni probabilità in settimana, comunque la si veda è l'ulteriore certificazione che i tempi dovranno essere ancora più rapidi perché gli adempimenti sono tanti e lo spazio temporale per metterli a posto, brevissimi. Se c'è un'ipotesi di lavoro tuttavia, ci si augura non abbia il respiro corto di chi vuole solo prolungare un redderazionem che prima o poi ci sarà, in ogni caso. E se si perde del tempo adesso per arrivare ad un nulla di fatto, il tentativo sarà stato vano e controproducente. A questo punto si va al tentativo secco. Gli amministratori giudiziari hanno concesso ancora qualche ora per valutare se ci siano delle manifestazioni di interesse e, cosa di cui non si parla mai, la loro effettiva consistenza. Per intenderci, è complicato immaginare un semaforo verde per un salvataggio che però faccia ripiombare il diavolo nel baratro tra poche settimane. Normale che la tifoseria speri e chieda a gran voce l'iscrizione ad un campionato che il Teramo sul campo ha confermato di meritare. Ma questo non può non passare anche dalla valutazione del fatto che non esiste solo l'iscrizione. Saldato il tutto, ammesso che ci si riesca e lo si faccia in settimana, poi ci sarà da provvedere all'allestimento di un organico competitivo, al reperimento di uno staff tecnico in grado di guidare un roster ancora tutto da definire, da mettere in cantiere le risorse che servono per la gestione della stagione sportiva che verrà. E serve anche l'accordo per il Bonolis, che tuttavia, almeno finché Iachini sarà dentro la compagine societaria, dovrebbe essere ostacolo, facilmente superabile. Gli adempimenti fuori dal campo sono moltissimi, quelli quando la palla comincerà a rotolare, se possibile, anche di più. Ecco perché il Tribunale di Roma, prima di dare l'avallo, vuole capire bene se i tentativi che si fanno hanno un respiro più o meno corto. Inoltre, adesso c'è l'incognita delle lancette. Andare avanti alla ricerca di qualcuno è operazione che può essere tollerabile entro e non oltre questa settimana, superata la quale forse converrebbe iniziare a fare ragionamenti diversi per evitare di perdere davvero tutto.